Sono il professore avvocato Baldassare Santamaria, ho insegnato molti anni la Facoltà di Economia all'Università di Roma Torrovergata ed in altre università italiane ed estere. Tra i miei volumi spiccano innanzitutto questo ultimo sui nuovi accertamenti fiscali. I nuovi accertamenti fiscali si inseriscono nell'insieme di tutta la riforma fiscale, ma ne costituiscono l'elemento fondamentale, il cuore della riforma. Viene trattato in particolare il tema delle ispezioni, degli atti impositivi, del contraddittorio, dell'adempimento collaborativo, del concordato preventivo e della fiscalità internazionale. Quindi tutti i temi degli accertamenti fiscali sono inseriti in questo libro e sono di grande utilità per tutti i contribuenti, per le grandi aziende ed altri aspetti che possono arrivare di seguito a queste che sono le ispezioni tributarie, che costituiscono l'elemento un po' di crisi dell'azienda, di timore per l'esito di essi e comunque chi voglia interessarsi su questo volume avrà anche i mezzi per potersi difendere. Per quanto riguarda il contraddittorio, anche qui è un aspetto rinnovativo della riforma, ma in realtà doveva essere generalizzato, ma si è fermato un po' a quegli atti impositivi più importanti.